Questo incontro più gusto per la vita con la Prorecco è la logica prosecuzione dello studio e del progetto scientifico che sta facendo Montallegro per la città di Genova, per lo sport e per l'alimentazione. Speriamo con la Prorecco di fare un cammino molto lungo e uno studio anche scientificamente interessante su quello che l'alimentazione può dare come valore aggiunto allo sport. Ultimamente leggo tante cose di quello che un sportivo deve mangiare, un atleta professionista. Sono stati loro più volte volentieri a chiedermi partecipazione, incontri, mi mandavano i messaggi, cosa posso fare, ho comprato la frutta. L'alimentazione è un aspetto fondamentale, uno dei più importanti al pari del fare palestra, del nuotare o dell'impegnarsi con la palla in acqua. Grazie a tutti.